Il tangenziale di Napoli è certamente un prototipo per il Paese, su questa infrastruttura investiremo sia sull'infrastruttura convenzionale, quindi riqualificando i ponti, i viadotti che ci sono sull'infrastruttura ma investendo molto sul digitale e su tutto quello che può essere sostenibilità del viaggio. Abbiamo diversi progetti, certamente sono tutti progetti di un grande gruppo come quello di Autostrada per l'Italia che investe in ingegneria, in costruzione, in digitale e quindi nella capacità di gestire questi importanti volumi di traffico. Partiamo dal sud per poi sviluppare in tutta Italia. La tangenziale di Napoli punta alla sostenibilità e alla tecnologia con un programma di potenziamento da 150 milioni di euro con la completa rigenerazione di un tracciato di oltre 20 chilometri. Tra gli interventi il potenziamento delle infrastrutture, dai viadotti alle gallerie, dalle barriere di sicurezza alla pavimentazione oltre a un sistema tecnologico per il loro monitoraggio, l'installazione di una rete in fibra ottica che consentirà anche l'ulteriore evoluzione dei sistemi di pagamento, nuovi impianti di sicurezza e un sistema di illuminazione radente che oltre al risparmio energetico migliora sicurezza e visibilità. Con l'aiuto dell'Università degli Studi di Napoli, da Federico II, sperimenteremo interventi relativi sia al monitoraggio dell'infrastruttura con le nuove e più moderne tecnologie, sia interventi per la trasformazione ecologica e rendere l'infrastruttura autonoma da un punto di vista energetico. Saranno anche realizzate due stazioni di ricarica elettrica ad alta capacità, nuove aree verdi e impianti fotovoltaici. Il piano dei lavori prevede da questo mese operazioni che avverranno prevalentemente in orario notturno. Il cronoprogramma prevede che nei prossimi quattro anni si metterà a mano a tutta l'infrastruttura sia da un punto di vista dell'adeguamento strutturale dei ponti e delle gallerie, sia da un punto di vista tecnologico. Per cui andranno di pari passo gli interventi e cercheremo di dare il meno fastidio possibile all'utenza lavorando prevalentemente di notte o fuori sede stradale. Bisogna di investimenti per un adeguamento innanzitutto in sicurezza, quindi l'intervento sui viadotti, l'intervento sulle gallerie era atteso da anni, finalmente c'è un investimento molto importante che poi mette in sicurezza in maniera definitiva la tangenziale che è un asse di trasporto per la città determinante. Ma poi è anche un momento in cui emerge una volontà di un nuovo investimento su questa arteria, quindi noi stiamo dialogando anche per valutare la possibilità di anche nuovi svincoli, di riprendere dei discorsi che erano fermi da anni, per la città una tangenziale efficiente, sicura e estremamente importante.